Abbiamo visto l'allenatore Tom Zee dare le ultime indicazioni all'atleta statunitense Agnes Zavansky, lei si allena con Tom Zee dal 2009, ha ottenuto una sesta posizione a Skate Canada ed era terza dopo lo short program dove ottenne 56 e 29. Vedremo ora se dopo aver superato l'emozione del debutto tra i senior a Skate Canada oggi saprà esprimersi al meglio in questa musica latinoamericana. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti